Stai pensando di passare a una casa più piccola? Ridimensionare può sembrare semplice, ma porta con sé sfide e decisioni importanti. Tra scegliere la nuova casa e vendere l'attuale al miglior prezzo, il processo richiede cura e attenzione. Ecco perché abbiamo sviluppato un servizio su misura per te in tre step. Primo, analisi delle tue esigenze attuali per trovare la casa che rispecchi il tuo nuovo stile di vita. Secondo, valutazione precisa del tuo immobile per rassicurarti il massimo rendimento economico della tua vendita. Terzo, piano personalizzato da seguire per perfezionare tutti gli aspetti della compravendita. Da oltre 40 anni, noi della rubina immobiliare ci impegniamo a supportarti in ogni fase dell'operazione immobiliare, garantendo un trasferimento senza stress. Vuoi scoprire come possiamo aiutarti? Ti offriamo una consulenza gratuita con relativo piano di fattibilità. Clicca su Scopri di più e compila il modulo. Siamo pronti ad affiancarti per rendere il tuo cambio casa il più sicuro e sereno possibile.